Ben ritrovati, nuova edizione del TV giornale di Telestense, edizione che anche in questo caso sarà prevalentemente dedicata all'emergenza maltempo, ma anche a una nuova allerta rossa diramata dalla regione per quello che riguarda la piena del Po. Ovviamente tante le notizie a riguardo per quello che riguarda anche il Reno e non solo, ma parleremo tra le altre di Ottobre Rosa con un'iniziativa tenutasi al centro di medicina di Ferrara che vede coinvolta anche la Lilt e poi ancora notizie legate alla Berco e alla ex Tolloc per quello che riguarda la crisi del lavoro nel nostro territorio. Cominciamo però subito da maltempo perché è stata emessa, come dicevo poco fa, una nuova allerta rossa per la giornata di martedì 22 ottobre su costa e pianura ferrarese a causa del transito della piena del Po. Allerta arancione per criticità idraulica per la pianura bolognese, modenese e reggiana verso il Po, ma anche per la costa romagnola e la situazione del bolognese dove si sta a intervenire in più parti resta la più complessa. Di tutto questo stiamo per sentire un assunto che arriva direttamente dalla Presidente facente funzione della Regione Emilia Romagna, Irene Apriolo. Vediamo. Sì, però la presenteremo se non oggi o domani o dopo domani, nel senso che in questo momento noi stiamo ancora lavorando a tutte le attività di soccorso alla popolazione, per cui abbiamo ancora l'allerta rossa, ma già da oggi pomeriggio stiamo lavorando proprio alla richiesta nazionale. Nel frattempo ho fatto per venire comunque alla conferenza dello Stato delle Regioni, che sono riunite tutti insieme a Bari, dove si svolge il Festival delle Regioni, una richiesta per fare un appello unanime e corale allo Stato affinché si lavori sulla prevenzione nella prossima finanziaria, perché oltre allo Stato di emergenza noi abbiamo bisogno di mettere in campo gli interventi anche previsti all'interno del piano speciale del Commissario Figliolo. In realtà degli strumenti esistono già perché è il piano di gestione rischio alluvione dell'autorità di bacino del Po, per cui anche il piano speciale che noi abbiamo fatto insieme al Commissario Figliolo è stato fatto insieme all'autorità di bacino del Po, per cui sono interventi che guardano lontano, però non è soltanto un problema di frammentazione, ci sarà la frammentazione ma se i piani non vengono finanziati, anche in assenza di frammentazione non vengono realizzati, per cui la cosa importante è avere un piano straordinario, io sono d'accordo, lo chiamo piano Marshall, chiamiamolo come ci pare, l'importante è avere un piano che mette in sicurezza non soltanto la Regione Emilia-Romagna, perché poi deve essere proprio di bacino, noi stiamo avendo la piena di Po, non soltanto per la nostra piena ma anche per quello che è arrivato dal Piemonte, e quindi abbiamo bisogno che questo piano guardi all'Emilia-Romagna, al vento della Lombardia e sia da questo punto di vista il più operativo possibile. Sì, non sono fiumi ma sono canali in alcuni casi o dei rii, non è un problema solo di Bologna, nel senso che tutte le città sono costruite in molti casi sull'acqua e hanno questo tema del tombinamento, ma vale per ogni realtà, il problema è che dopo un evento come questo emerge in modo molto chiaro che alcune infrastrutture non sono più capienti per questi quantitativi, quindi è necessario, dove è possibile, dove non c'è un centro storico, provare a laminare l'acqua in altri contesti, laddove abbiamo, come ho visto questa mattina, una realtà su cui si può intervenire, sul reticolo, perché non abbiamo un ambito di tutela, noi bisogna che lavoriamo insieme alle amministrazioni comunali per comprendere come rendere più capienti le reti urbane. Questa è dunque l'analisi regionale della Presidente Priolo, ma adesso torniamo proprio nella nostra provincia, nel Ferrarese, dove c'è appunto un'emergenza legata all'allerta rossa per la piena del Po. Vediamo il servizio. Dopo le devastanti piogge di sabato, tra lunedì e martedì, è prevista una tregua sull'Emilia-Romagna con precipitazioni non significative. La situazione del Bolognese, dove si sta intervenendo in più parti, resta la più complessa, ma si vigila in parallelo sulle criticità in evoluzione che riguardano il Ferrarese per la piena del Reno e il Modenese per il Secchia e il Panaro. Ma intanto l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha emesso per martedì 22 ottobre una nuova allerta rossa per la costa e la pianura ferrarese a causa del transito della piena del Po. Allerta arancione invece per la criticità idraulica per la pianura bolognese, modenese, reggiana, verso il Po, ma anche per la costa romagnola. In provincia di Ferrara, precisamente in località Gallo, nel territorio comunale di Poggio Renatico, è sotto osservazione la piena del Reno, in transito nel tratto arginato di valle con livelli al colmo che superano soglia 2. I tecnici sono già intervenuti posizionando anche sacchetti di sabbia all'altezza della finestra arginale, lo sfioratore, per consentire il deflusso ed è in funzione un sistema artificiale che permette il passaggio delle acque del Reno da un canale a un altro prima di immettersi nel Po, già vicino a soglia 3. L'altra area attenzionata è il modenese per via delle piene del Secchia e del Panaro che stanno defluendo lentamente con livelli superiori alla soglia 2 alla confluenza del grande fiume. Nella serata di domenica c'è stata una trafilatura a Ponte Navicello a Bonporto gestita con l'intervento di una coronella e di un rinforzo di terra. Intanto si attende l'arrivo della piena del grande fiume, il colmo di piena del Po ha transitato a Borretto nel Reggiano lunedì mattina con 6,37 metri sul zero idrometico per criticità moderata e di colore arancione e si prevede che transiti nella sezione di Borgoforte in provincia di Mantova la sera di lunedì con valori oltre la terza soglia di criticità elevata e di colore rosso. I livelli del Po, spiega l'agenzia Aipo, hanno già sorpassato la soglia 2 di criticità nel tratto Veneto-Emiliano, nella sezione di Ponte Lago Scuro e nei Rami del Delta nelle prossime 24 ore. In ragione dei consistenti apporti degli affluenti miliani, i livelli attesi lungo il tratto del Po tra Borgoforte e il mare Adriatico si attesteranno su valori prossimi o di poco superiori alla terza soglia di criticità elevata e di colore rosso. Anche il comprensorio del Consorzio di Burana, colpito da un'ondata di maltempo che ha causato problemi al sistema di bonifica, dal 18 ottobre ha attivato diversi impianti di scolo e pompe per gestire l'eccesso di acqua, in coordinamento con la protezione civile di Modena e Ferrara. Il fiume Po, pur avendo raggiunto livelli elevati, ha potuto ricevere parte delle acque grazie a un'attenta regolazione. Sono state eseguite manovre straordinarie per deviare le acque da zone critiche come la botte napoleonica e il canale Naviglio. Motopompe sono state utilizzate per alleggerire i torrenti e i fiumi sovraccarichi, ma alcune aree agricole rimangono allagate e il drenaggio procede lentamente. Intanto i livelli idrometrici su tutti i corsi d'acqua della regione sono stati in alcuni punti prossimi o superiori alle soglie di Allerta 3. e si rimane in allerto ovviamente per il transito della Piana del Po, come evidenziato nel servizio di poco fa. L'area viene costantemente sorvegliata dagli uomini della protezione civile e dalle pattuglie della polizia locale, controllando in modo particolare l'evoluzione dell'evento nella zona della Golena in cui transitano e insistano le abitazioni e alcune attività. Gli agenti del Corpo Terrestensi, oltre alla vigilanza della Golena, sono dovuti intervenire nei pressi degli argini in alcuni punti critici, anche per allontanare alcune persone pronte a fare selfie con il fiume in piena sullo sfondo, tra cui due inglesi in bicicletta che avevano pensato di scendere in un sentiero diretto nella Golena colma di Ponte Lago Scuro al fine di effettuare autoscatti con rischio di finire in acqua. Intanto in previsione della Piana del Po è stata firmata l'ordinanza di evacuazione da parte del sindaco di Ferrara, Alan Fabri, riguarda sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell'area golenale del grande fiume sulla sponda ferrarese. I cittadini e le ditte elencate nell'ordinanza dovranno evacuare dagli immobili presenti in Golena in caso di superamento della soglia idrometrica di livello 3 pari a metri 2,50. Si tratta di una firma preventiva effettiva per il momento in cui il Po salirà a tale livello in cui scatta la soglia rossa. Intanto osservato speciale è anche il fiume Reno, si attende il passaggio dell'onda di piena e a gallo di poggio renatico, diversi terreni sono coperti o allagati dall'acqua. Da diverse ore sono in atto con lo sfioratore e le manovre idrauliche per ridurre la piena del fiume, ma vediamo i particolari nel servizio. Nella notte tra domenica e lunedì il Reno ha superato la quota dell'argine dello sfioratore. Le acque fuoriuscite in modo controllato attraverso lo stesso sono state raccolte dalla rete del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nel canale Cembalina e vengono recapitate nel Po di Primaro. Il Consorzio Pianura di Ferrara, d'accordo con l'Agenzia della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e il Consorzio di Burana, sta attuando tutte le manovre idrauliche sul bacino idrografico al fine di alleggerire quanto più possibile il carico del Po di Primaro per permettere all'asta di accogliere le acque del Reno. L'acqua traccimata dallo scolmatore di Reno ha invaso intanto i campi coltivati. Il livello è alto ed è ancora rosso, commenta Coldiretti Ferrara. Sappiamo che sono state fatte delle manovre idrauliche per alleggerire la piena del Reno tramite lo scolmatore. Il cavo napoleonico è stato chiuso per ritardare l'avvio di altra acqua nel Po perché il grande fiume sta ricevendo tutta quella caduta a monte dall'intero bacino idrografico del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia. L'auspicio, continua Coldiretti, è che si riesca a governare la massa d'acqua presente in arrivo senza rotture degli argini e che non venga ancora a piovere in modo così intenso e in continuo come nei giorni scorsi. Dal monitoraggio dell'organizzazione agricola non risultano al momento altre situazioni di crisi o di allarme imminente tranne i probabili danni al settore degli allevamenti di vongole e della sacca di goro, già decimate dall'azione del granchio blu, continua l'organizzazione agricola vongole che rischiano di morire per l'effetto della troppa acqua dolce che sta arrivando sia in sacca che nelle valli di Comacchio. Intanto le intense precipitazioni del fine settimana hanno causato un allagamento alla casa della comunità di Porto Maggiore nei locali dell'ambulatorio di Odontoiatria. Sono in corso gli interventi tecnici per ripristinare l'attività all'interno dei locali, al momento considerati inagibili e i lavori proseguiranno fino alla completa risoluzione del problema. Le ripercussioni sull'attività sanitaria svolte all'interno della casa della comunità di Porto Maggiore sono limitate appunto all'ambulatorio odontoriatrico. L'azienda sta provvedendo ad avvertire l'utenza prenotata e riprogrammare al più presto le visite odontoiatriche in modo da limitare al massimo i disagi per i quali l'azienda si scusa. E adesso terminiamo dunque la pagina dedicata al maltempo per cambiare tema e affrontare un altro momento drammatico del nostro territorio perché il licenziamento di 77 persone alla Regal Rexnord di Masi Torello ex Tollo che l'annuncio di 480 esuberi alla Berco di Copparo lasciano sgomenti attoniti per le conseguenze gravissime che avranno sulle centinaia di famiglie coinvolte sul tessuto economico e sociale del territorio. Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e CNA esprimono unanimi solidarietà e vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie. Vediamo servizio. Il licenziamento di 77 persone alla Regal Rexnord di Masi Torello ex Tollo e l'annuncio di 480 esuberi alla Berco di Copparo lasciano sgomenti attoniti per le conseguenze gravissime che avranno sulle centinaia di famiglie coinvolte e sul tessuto economico e sociale del territorio. In una nota congiunta, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e CNA esprimono unanimi solidarietà e vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie costretti a subire una scelta unilaterale che non solo mette in ginocchio le comunità dei territori coinvolti, spiegano le quattro associazioni imprenditoriali, ma genera anche un impoverimento complessivo dell'intero sistema economico dell'indotto, diretto ed indiretto, nei settori dell'artigianato, nel commercio e nei servizi. Di fronte a scelte che impattano in modo così grave sul presente e sul futuro di un'area già economicamente fragile e complessa, tutte le componenti istituzionali e sociali devono sentirsi coinvolte e far sentire la propria voce e scendere in campo perché la situazione che si è generata non è infatti economicamente e socialmente sostenibile. È necessario, continuano CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, ricercare tutte le iniziative che possano portare le multinazionali proprietarie dei due stabilimenti, l'americana Regal Rex Board e il gruppo tedesco Thyssen Group, a rivedere le decisioni assunte. I licenziamenti coinvolgono infatti stabilimenti che in passato hanno dato tanto al territorio, ma ne hanno anche ricevuto moltissimo in termini di dedizione, cura del prodotto, collaborazione da parte delle aziende dell'indotto e delle istituzioni. Sono cose queste che non possono e non devono essere cancellate con una e-mail di licenziamento inviata all'alba, concludono le quattro associazioni imprenditoriali. E adesso la sanità nel nostro tv giornale. Siamo nel mese appunto dell'ottobre rosa dedicato alla prevenzione dei tumori femminili e il centro di medicina di Ferrara propone un check-up anche alle donne di età inferiore di 40 anni. Sentiamo. Ci troviamo con la dottoressa Paola Mastellari al centro di medicina di Ferrara. La prevenzione è ovviamente il tema che stiamo affrontando e in particolare quest'anno il focus è sulle giovani donne, le under 40. Ecco ci spieghi perché intanto questo target e quali sono eventuali risultati emersi appunto da queste visite. Ma l'idea è cercare di avvicinarci alle ragazze giovani soprattutto perché abbiano una consapevolezza di come è fatto il proprio seno. Purtroppo i tumori della mammella, purtroppo anzi fortunatamente i tumori della mammella prima dei 40 anni sono molto rari ma sono comunque presenti e quindi l'idea è di andare incontro anche a queste persone in modo tale che abbiano un'idea di cosa c'è nel loro seno. Oggi abbiamo visto una ragazza che raccontava di aver avuto una nonna con tumore al seno, prima ecografia, sono emersi diversi noduli, tutti per carità con caratteristiche di benignità, ma questo ci ha portato a dire perfetto, sono presenti questi noduli, teniamoli monitorati nel tempo. Quindi vuole essere proprio un approccio per permettere alle persone di conoscere il proprio seno. A seconda di come è strutturato il proprio seno, tra l'altro, può essere indicato un esame piuttosto che un altro. Quindi l'idea è proprio dare a tutte la possibilità di sapere come siamo fatti. Questo è sicuramente importante, quindi ancora una volta evidenzia il fatto che dalla prevenzione si possono evitare conseguenze più serie magari in un domani. Sì, ma soprattutto una volta che si prende consapevolezza del proprio seno, se si stabilisce che ci sono noduli da controllare piuttosto che no, diventa veramente molto più semplice la gestione anche del tutto. Noduli sospetti, immediatamente si interviene, quindi sicuramente è un'occasione per dire va bene, ok, io sono così, so che con queste mie caratteristiche la prevenzione migliore per me è questa. Semplicemente vuole essere un'informativa. Niente di più, niente di meno. Ora abbiamo detto, dunque, quest'anno Under 40, però negli altri anni ovviamente si è parlato e ovviamente rimane importante tutto quello che riguarda per le donne che hanno più di 40 anni. Che cosa possiamo dire invece a un target più adulto da questo punto di vista? Allora, a un target più adulto la cosa più importante è sempre comunque la mammografia, perché comunque la mammografia è l'esame più completo per poter andare a vedere se ci sono dei tumori della mammella, perché è quella che ci permette di poter vedere anche le microcalcificazioni che spesso indicano un tumore in situ che diversamente con l'ecografia non si può vedere. Quindi sicuramente dai 40 anni, quando abbiamo un picco aumentato di tumori della mammella, è consigliabile sempre cominciare con una mammografia che, a seconda di nuovo di come è fatto il nostro seno, più o meno componente ghiandolare, può essere accompagnato o no dall'ecografia. L'obiettivo è sempre lo stesso, cercare di prendere i tumori nello stadio più piccolo possibile per evitare conseguenze più gravi dopo, cioè in modo tale che le cure possano essere il più blande possibili, ma soprattutto la sopravvivenza possa essere il più lunga possibile. Quindi l'obiettivo è sempre lo stesso, cercare in qualche modo di garantire il massimo nella possibilità di cura. E anche la Lilt è impegnata nell'Ottobre Rosa, ebbene nel corso della mattinata abbiamo sentito il professor Edgardo Canducci, presidente di Lilt Ferrara, allora diamo spazio appunto a questa intervista. La Lilt è presente ovviamente a questa iniziativa, siamo con il professor Canducci, presidente di Lilt Ferrara, allora ancora una volta la prevenzione al centro delle vostre attività. Sì, effettivamente diciamo che la prevenzione è alla base della nostra attività, poi facciamo anche qualcos'altro, ma fondamentalmente la Lilt nazionale e quindi anche l'Associazione di Ferrara è fondata sulla prevenzione. Ancora una volta nel Mese Rosa con il centro di medicina, con il quale abbiamo una convenzione da diversi anni e un ottimo rapporto, ci ha dato la possibilità di poter eseguire questa attività di prevenzione sulle signore. Un pochino più avanti lo faremo anche per gli uomini e quindi così non facciamo torto a nessuno ovviamente e anche c'è da sottolineare che speriamo che il mio genere sia disponibile più del solito perché io penso per paura gli uomini aderiscono meno rispetto alle donne. Ovviamente è un'opinione, posso essere smentito in qualsiasi momento, però ecco noi abbiamo pensato che sia opportuno per tutta la popolazione ferrarese, per tutti i nostri soci, proporre questa attività di accertamento al fine di poter verificare se, come ci si augura, tutto va bene oppure se di dare la possibilità a tutti i nostri soci di poter avere un'occasione per verificare le proprie condizioni e con accertamenti più profonditi in quei casi in cui ovviamente vi sia la necessità. Però questo primo aspetto secondo me è di fondamentale importanza e quindi non posso far altro che invitare tutti agli screening perché riuscire a diagnosticare un tumore quanto più precocemente possibile significa avere la possibilità di guarire molto di più rispetto a una diagnosi fatta in ritardo. Ecco, quest'anno tra l'altro l'attenzione è posta sulle giovani donne, quindi un abbassamento dell'età per prevenire un momento della vita in cui magari non si pensa ancora ai tumori ma che purtroppo potrebbero comunque insorgere. Purtroppo ha ragione nel senso che la letteratura scientifica degli ultimi anni testimonia che effettivamente abbiamo diagnosi su giovani donne, addirittura su delle ragazzine e quindi questo ci ha fatto diciamo orientare in questa direzione al fine di non lasciare scoperta nessuna fascia, tenendo conto che la fascia intermedia è testata dall'Asla e quindi a maggior ragione noi vogliamo essere di supporto ma non ovviamente di andare in qualche modo a intralciare l'attività dell'Asla che riteniamo sia di ottima qualità almeno nella nostra realtà ferrarese ma direi emiliano romagnola e dell'Italia settentrionale. E questa era la nostra ultima notizia, vi ricordo come sempre TeleSense.it e i nostri canali social per questi e ulteriori aggiornamenti. Grazie dunque per averci seguito, l'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione. Grazie.